salve a tutti ragazzi io sono bolt player e benvenuti in questo nuovo video oggi sono ritornato su roblox comunque questa è la mappa chiamata roblox doors allora dovrei trovare una stanza dove posso giocare possibilmente da solo ok questa però è già occupata non lo so posso già entrare sì magari ho rubato il posto questo qui però scusa perché c'è qualcuno con me no magari sta caricando già da prima ah comunque sì caricamento allora devo vedere c'è in realtà c'è già giocato però non è che sono molto esperto devo essere sincero non sono molto esperto qui c'è un negozio pre partita no io non posso comprare nulla con quello che ho quindi lasciamo perdere allora mi sa che devo schiacciare qui per aprire l'ascensore sì l'hotel allora devo dire che il posto è spaventoso allora mi ricordo che qui c'è una chiave per aprire la porta quindi direi già di prenderla a questo punto ecco fatto è talmente buio a devo tenere premuto no sinceramente non ci dovrei entrare ad entrare lì dentro è troppo buio per i miei gusti almeno è troppo buio a ok luce accese allora direi di andare qui dentro allora qui dentro non c'è proprio nulla quindi direi di uscire magari sono mi scontrarsi contro le pareti qui c'è un cassetto ho trovato delle chiavi ah servono già delle chiavi per entrare qui d'accordo what player devi tenere premuto mamma mia però questo buio io aspetto che si accendano le luci ah ecco fatto magari mi guardo un po intorno per vedere se c'è qualcosa no quindi direi che posso già proseguire no ancora sì qui ci sono dei cassetti nulla questi oggetti non si possono prendere non c'è niente d'accordo allora direi di proseguire ormai abbiamo capito è sempre buio nelle stanze in realtà quello che ricordo non sempre delle volte quando si apre la porta nella stanza successiva c'è la luce ah però non sto trovando nulla qui è troppo buio non si riesce a vedere proprio niente qui niente qui niente non voglio aprire questo qui niente niente ah soldi in realtà oh che cosa questo qui non l'avevo mai incontrato possono esserci dei ragni un altro ragno ma cosa e vabbè però cioè grazie mille ovviamente non è vero grazie di nulla oh soldi eh sì dai lasciamo perdere qui cosa c'è niente qui c'è una cassa però è troppo buio non penso ci sia qualcosa di brutto qui ah non posso aprirla non mi era mai successo allora direi di andare avanti qui c'è ah bisogna già proseguire oh no 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 sento dei suoni dov'era qui l'è stata giusta penso di sì oh sento un suono forse è meglio se mi nascondo perché so che c'è un mostro che cammina liberamente per questo hotel allora me le uscire ho visto che non posso stare tanto tempo nascosto oh qui c'è la pioggia oh c'era un cerotto e mi sono curato allora direi di proseguire oh no cos'è no è la luce del temporale allora direi di proseguire ovviamente ma perché è troppo buio stanza numero 9 no non voglio entrare che vuoi perché sono venuto qui dai perché ho scelto questo hotel dico io qui è sgarrato tutto per passare devo inchinarmi stanza numero 10 oh sento un suono no non sta arrivando nessuno ah ma qui è buio e non ho trovato nessuna fonte di luce questo è davvero un problema qui c'è una porta me lo si mi nascondo ma perché tu sei di questo colore allora devo dire che sto avendo paura abbastanza non è uno scherzo sto avendo paura e comunque non vedo niente ah qui ci sono dei cassetti qualche fonte di luce per favore niente d'accordo ma qui è troppo buio non si riesce a vedere proprio niente oh una porta qui c'è qualcosa oh ma non ma dai però comunque la stanza si è illuminata o sbaglio adesso di una luce blu certo però si è illuminata a questo punto direi di proseguire con la stanza numero 12 sento dei suoni no non è niente dai ah lo sapevo lo sapevo avevo sentito i suoni lo sapevo sei morto di nuovo a causa di rush fai attenzione alle luci sono relazionate al sorrivo mh d'accordo o dire di provare un'altra volta almeno andiamo qui dentro sì l'hotel sì l'hotel ormai si è capito vabbè all'inizio non è che si trovano mostri quindi possiamo stare tranquilli allora direi di aprire qui e direi di andare spedito anzi no in realtà vorrei frugare nei cassetti per vedere se trovo qualcosa di utile niente di niente d'accordo andiamo vabbè all'inizio non c'è niente ormai l'ho capito qui è buio ma ormai lo abbiamo stabilito qui ci sono dei soldi ok andiamo qui è troppo buio luci luci eccole eccole chi ha oh stavo dicendo cos'è successo niente sono solo andato sotto il letto di nuovo ma cosa vabbè direi di andare a questo punto non ho trovato niente oh no ho capito qual è questo mostro quello che non va guardato negli occhi oh ma come faccio devo camminare per forza così non devo guardarlo negli occhi qui c'è una porta ma non so se è cura giù no ho capito quello che devo fare qui devo aprire quel cancello eh sì vabbè ma proprio lì doveva stare quel mostro dico io ah ma vedo che la mappa cambia non è sempre la stessa ok ho trovato la leva quindi la porta dovrebbe essere aperta oh no dai è proprio lì non è giusto però mi stavo aspettando mi lasci andare grazie ultima possibilità di guardarmi sopra vivi ad ice d'accordo oh meno male ho trovato dei cerotti a questo punto direi di proseguire forza 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 cos'è questa stanza no direi di andare qui per favore qualcosa di utile soldi ah ne ho 110 ora stanza numero 9 vediamo cosa c'è qui dentro nulla benissimo ovviamente non è vero che è benissimo oh rumore di pioggia spero non sia rush no è la pioggia solamente stanza numero 11 oh sento un suono però dove non posso nascondermi ah si c'è un armadio no qui non posso nascondermi da nessuna parte e di nuovo la stanza buia e non riesco a vedere niente dai qual è la strada giusta eccola stanza numero 12 vediamo cosa c'è qui le chiavi della stanza numero 13 d'accordo oh cosa è stato è crollato tutto d'accordo facciamo finta di nulla io mi sto spaventando veramente tantissimo oh ci sono i cassetti cerotti quanti che mi sono fatto male non mi ricordo ah si con ice qui potrei qui posso scrivere ma cosa serve precisamente non lo so cerotti ok le ho usate adesso comunque è bella questa macchina da scrivere però so che serve a scrivere però in questo gioco serve a qualcosa non lo so vabbè direi proseguire qui bisogna andare così ovviamente stanza numero 14 sento un suono oh ho fatto bene ecco rush ho fatto bene questa volta ma perché è diventato buio no hai spento la luce rush credo che sia stato tu ah no devo andare dall'altra parte questa sarà giusta d'accordo ah è lui che ha aperto la porta allora andiamo qui non c'è niente andiamo qui uh d'accordo devo trovare la chiave ok c'è questa stanza illuminata di blu uh ecco la chiave cerotti bene posso andare stanza numero 16 c'è un tavolo come posso andare lì devo andare non ho capito ah no ah si ho capito ho capito si ho capito devo mettere i quadri nel posto giusto d'accordo quindi questo va qui questo decisamente non va qui ma decisamente va qui no non sto capendo niente c'è un altro quadro quindi si no questo non va qui ma perché l'ho messo qui questo va lì non avevo visto questo quadro ecco perché d'accordo questo va qui questo dove va no non va qui si appunto no perché dalla mia angolazione non riesco a vedere come sono fatti i quadri fatto devo ammettere che questa cosa è stata fantastica o no lì dentro c'è troppo buio forza 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 ecco fatto direi di andare subito qui stanza numero 20 oh no non voglio andare lì ho aperto la porta per sbaglio cioè almeno per adesso non voglio andare lì cos'è stato ho sentito bussare eh però non si vede niente ho sentito buss che significa oh cosa era eh ho capito quello è il mosto quello è il mosto che si trova nel buio e bisogna avere una fonte di luce ma io non ne ho trovata nessuna allora dentro questi cassetti non si trova proprio nulla zero qui non c'è nulla sento un suono eh rush ce l'ho fatta ce l'ho fatta quindi posso proseguire ci sono dei cassetti allora bisogna andare da lì soldi ah in confronto alla partita di prima sto andando abbastanza bene cerotti oh perché ci sono degli occhi lì preferirei non fare domande no devo trovare quella giusta cos'è qui ci sono degli occhi meglio non guardarli no di nuovo quel mosto nel buio ok ok dai pensavo di avercela fatta allora in teoria in questo gioco dovrebbero esserci 100 porte ma io sicuro non ce la farò di sicuro non ce la farò che cosa no che cos'è non sono mai arrivato a questo punto mi sta inseguendo uh no 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 devo correre quindi no no non ti bloccare per favore eh sì si sta distorcendo tutto no ho perso vero sì ho perso ho perso a mia difesa non ero mai arrivato a questo punto sembra che tu sia stato preso e sia morto per mano di sick dovevo nascondermi per caso guarda verso entrambe le vie prima di procedere ah ok sì è perché ho preso la strada sbagliata ecco perché mi ha preso no basta non voglio più proseguire veramente troppa paura sono saltato un bel po' di volte per colpo di questi jumpscare quindi basta sì vabbè l'avvertenza vabbè oh è stato veramente pauroso devo ammetterlo anche se come gioco è bello vabbè per questo video è tutto iscrivetevi mettete like condividete il video e commentate e da bot player è tutto ci vediamo un prossimo video ciao ciao